Ennesimo episodio di violenza segnalato negli ultimi mesi a Udine. Questa volta il fatto è capitato in centro città in via Sovorniana intorno alle ore 10 del mattino di mercoledì 5 giugno. Due donne stavano uscendo dall'ufficio dell'Inps quando sono state aggredite e prese a schiaffi da un uomo di circa 60 anni italiano in evidente stato confusionale. La cosa che preoccupa e che spaventa è che l'uomo ha dato in escandescenza assolutamente senza motivo lanciandosi verso le due donne che non si aspettavano ovviamente un'aggressione del genere. A raccontarci l'episodio è un barista della zona che è intervenuto personalmente insieme ad altri passanti per fermare l'aggressore e difendere le donne placando gli animi che si stavano surriscaldando. Grazie all'intervento dei cittadini è stato quindi evitato il peggio e l'uomo poi è stato immobilizzato fino all'arrivo delle forze dell'ordine di un'ambulanza sulla quale è stato caricato l'aggressore.